Eccoci qua ancora buonasera dall'hotel nazionale di Senzano del Garda, siamo con Bisi, dirigente del settore giovanile della Reggiana. Un parere su questo torneo da parte sua? Io ho avuto il piacere già di presenziare il torneo dell'anno scorso con la nostra squadra dei 97 l'anno scorso. E' la prima volta che venivo qui ma ho avuto l'impressione che sia un torneo organizzato bene, con cura, in un bel impianto, molto valido, con delle squadre decisamente di livello. Direi un ottimo torneo, infatti noi abbiamo presenziato con grande piacere anche quest'anno. Ecco, cogliamo l'occasione del suggerimento che ci ha dato in primo luogo il giornalista di Sky, a proposito appunto a volte di questa esasperazione che succede magari non da parte dei ragazzi del settore giovanile ma magari dalle tribune. Ecco, qual è il ruolo? Cosa deve fare un dirigente per riuscire? O c'è un segreto? Calmare, calmare gli animi. Il dirigente deve fondamentalmente gettare l'acqua sul fuoco, cioè innanzitutto là dove ci sono anche dei genitori che vengono a volte pretendendo che il loro figlio abbia un ruolo di spicco. Allora bisogna cercare di fargli capire che insomma, intanto è un gioco, prima cosa. Soprattutto nel settore giovanile l'importante è l'aspetto ludico, l'aspetto ludico è fondamentale. Perché intanto si divertono, piano piano divertendo si imparano e quindi crescono. E là dove ci sono dei talenti comunque saltano fuori, però lo stress glielo lasciamo quando sarà ora, ne avranno fin troppo. Quindi almeno il settore giovanile, secondo il credo proprio non solo mio ma di tutto lo staff tecnico, lo staff dirigenziale della società direi, è proprio questo. Il settore giovanile deve basarsi innanzitutto sull'aspetto ludico. L'aspetto ludico è fondamentale e poi dietro all'aspetto ludico ci sono tutti quei valori che sono il comportamento, lo stare con gli altri, il rispetto e quindi poi non da ultimo ovviamente anche l'aspetto tecnico. Tutto questo mix di cose fanno sì che il ragazzo deve crescere come uomo anche, non solo come atleta. Ringraziamo molto il signor Vesi, alla prossima, in bocca al lupo!